buongiorno dopo tanto tempo adesso registro un nuovo vlog allora dato che oggi è una giornata speciale perché oggi il compleanno del mio ragazzo del mio compagno oggi il 27 agosto e fa gli anni dato che vorrei festeggiare alla grande spero che il tempo resiste e che c'è il sole perché adesso c'è il sole però ci sono le nuvole hanno detto che dovrebbe piovere per una settimana tanto per cambiare spero che almeno fino alla fine a stasera almeno oggi resiste e c'è il sole perché volevo fargli la festa nella nuova casa del giardino dove abbiamo il giardino enorme per cui io ho preso la torta e i cupcake i pasticcini no perché ho preso i capelli cupcake per cui ho detto vabbè però la torta è bellissima lo scelta forma di milan con il pallone eccetera che poi vi farò vedere e allora metto il cavalletto perché inizia a farmi male la mano scusate ma scusate l'inquadratura che dietro ci sono gli scatoloni ma come sapete devo traslocare e sto facendo tutti gli scatoloni piano piano per cui volevo dirvi una cosa velocissima oggi ovviamente farò un blog registro un blog che voi lo vedete lunedì in questa settimana i video saranno due e vedete lunedì 29 agosto questo blog invece il 30 di agosto che martedì vedete un altro video il primo settembre di giovedì non pubblico niente ho deciso di fa per il momento in questa settimana fare così per cui vedete due video vicini e non martedì giovedì solo questa settimana dalla prossima settimana ci saranno praticamente due video o forse tre non lo so perché ancora diciamo che non sto pubblicando niente il sabato devo ancora decidere volevo dirvi una cosa veloce allora vi avviso che in teoria su instagram l'ho detto non so se si è capito ma l'ho detto però per chi non ha instagram ve lo dico qua allora io ho cambiato lavoro dove ero prima che facevo pulizie asili pulivo concessionarie condomini prima nella ditta nell'altra ditta vecchia dopo la malattia ovviamente non sono ho deciso di cambiare lavoro e ho trovato questo lavoro qua dove lavoro otto ore al giorno tutti i giorni tranne un giorno di riposo che ad esempio questo sabato io sono di riposo per cui sto registrando il blog in questo giorno di riposo perché questo per adesso in questa settimana o sabato però i giorni di riposo non sono sempre gli stessi cambiano ogni settimana per cui dato che ho cambiato il nuovo lavoro e adesso lavoro otto ore tutti i giorni praticamente dalla mattina alla sera sto facendo un po di fatica a registrare i video dato che ci tengo tanto ma tanto registrare i video e ovviamente essere presenti sul mio canale perché guai chi mi tocca il mio canale e quello che faccio è la mia passione mi piace farlo e lo voglio fare per cui non voglio che il mio canale resta senza un video per farvi capire per cui sto cercando il possibile di registrare montare i video non è facile perché dato che avendo solo un giorno di riposo essendo che non sono in casa da sola vivo con i miei per il momento non è facile registrare montare sì ma registrare no per cui sto avendo un po di sto facendo tanta fatica adesso sto registrando perché per fortuna non c'è nessuno in casa sono andati via tutti per cui faccio veloce questo questa mini clip e poi vi faccio vedere tutto il giorno quello che facciamo e in poche parole anche se lavoro quando torno a casa di lavorare alla sera per farvi capire monto i video alla sera tardi dopo le otto di sera e li pubblico le sette e mezza del mattino per farvi capire quanto ci tengo al mio canale e ai video che voglio registrare per cui per chi piace i video che faccio e piace il mio canale quando esce il video guardatelo perché sì sto cercando di non farli durare tanto cerco di non farli durare tanto però io ci tengo molto che vedete i miei video per cui vi prego guardateli tutti quando io li pubblico anche se non riuscite in quel giorno a vederlo a me va bene anche il giorno dopo l'importante che guardate il video e i video che ovviamente escono per cui ci tengo tanto perché faccio tanta fatica e tantomeno non è facile lavorare otto ore anche più di otto ore l'altra volta ho fatto 11 ore di lavoro ero morta stanca ma sono riuscita a registrare e montare il video per farvi capire quanto io ci tengo per cui ovviamente i video saranno un po così così in senso che c'è quella settimana che riesco a registrare due video ea pubblicare due video settimane c'è quella settimana che riesco a pubblicare tre video settimana c'è la settimana in cui riesco a pubblicare solo un video settimana per cui se non vi avviso scusate ma non posso avvisarvi ogni volta e per dirvi guarda che in questa settimana riesco a pubblicare solo un video cioè per fare capire per cui quello che vedete sarà così diciamo che io adesso sto lavorando nelle ville sono due ville che si trovano a blevio sul lago di como ovviamente poi rimetterò anche un blog su dove sto lavorando e vi assicuro per per fortuna ho scelto questo lavoro di pulire le stanze di stare dietro a queste due ville enormi che che è una cosa molto c'è è stancante perché pesante però quando vedi il panorama vi assicuro che è bellissimo per cui sono molto felice di aver cambiato lavoro e secondo me adesso sono meno stressata a confronto dell'altro lavoro che avevo per cui adesso che sto pulendo queste due ville enormi col giardino piscine spa sono molto felice l'unica cosa che sto cercando di organizzarmi con i video per cui sarà un po così così però spero che guardate tutti i video che io pubblico perché sto facendo tanta fatica e l'organizzazione è tanta ci sono molti video che voglio fare infatti come voglio farvi vedere ho la mia agenda dove scrivo tutti i video dove ovviamente andranno sul canale però piano piano cerco di organizzarmi volevo dirvi questo anche se non c'entra niente su questo blog però almeno vi ho avvisato che col nuovo lavoro sarà molto molto fatica perché vi assicuro che io arrivo stanca morta c'è morta in più non riesco a fare niente non è più come una come prima che riuscivo a fare tanto andare in giro eccetera adesso torno a casa alle sera alla sera e non riesco a fare niente non riesco a uscire andare nei negozi non è come come prima però sono soddisfatta perché quando vedi risultati quando arrivano i soldi che sono tanti dice wow adesso sì che posso spenderli per cui sono molto felice e niente volevo dirvi solo questo come sempre parlo sempre tanto e i video ovviamente durano l'eternità comunque niente adesso vi porto con me in questa giornata di compleanno il regalo ve l'ho già fatto vedere nel secondo video dello shopping che ho fatto che sono praticamente le mutande ve lo fate vedere però se riesco andare dai cinesi che devo comprare le candeline spero di riuscirci io compro anche qualche altro regalo adesso vediamo se riesco uscire e vediamo un po perché per il momento il tempo regge c'è il sole e spero che fino a stasera regge perché oggi volevo allora alle quattro e mezza mi arriva la torta e e poi quando abbiamo festeggiato il compleanno con la torta alla sera vorrei andare a cena fuori per cui in senso con la mia famiglia il mio ragazzo vediamo se vogliono uscire vediamo se vogliono andare al ristorante se no amen comunque niente ci vediamo dopo e vi faccio vedere cosa facciamo e la torta ovviamente comunque credo di aver detto tutto perché se no poi mi dimentico e niente ci vediamo dopo sono arrivata adesso a casa e sono andata in due negozi uno è questo qua firmato tom jeans e cleaving lane vi faccio vedere cosa li ho preso e poi jets moda quello è l'altro regalo che vi ho fatto vedere vi faccio vedere cosa ho preso ho preso le due calze della levis nere e bianche queste qua due magliette uno dell'uncleving lane non era in saldo ma vabbè fatte così non li apro perché la piegate bene io poi non riesco a piegarle e uno di tom jeans non so come si dice fatti così con la scritta questo è più pesante dato che il mio ragazzo non ha le magliette di marca allora giustamente gli ho regalato queste cose di marca adesso gliele impacchetto gliele metto qua dentro così sono a posto e questo è il regalo invece qua ci sono le mutande che vi ho fatto vedere l'altra volta invece per la festa bicchieri questi qua che sparano nelle candele i numeri due e otto questi due poi ho preso il candele per mettere su alla torta le posate per la torta il cibo per i miei conigli che ho trovato solo questo perché c'era solo questo poi questo l'ho preso mi hanno un panno questo invece sono i piatti per il compleanno per mettere la torta poi ho preso altre calze però questi qua sono dei cinesi per cui io ho preso altre calze sempre al mio ragazzo le ho prese altre queste qui e per finire come riesco a tirarle via allora candelina che queste carine del lotto e basta e basta queste sono le cose che io ho preso per il totale 20,57 questo mi ha tirare via lo scontrino totale 125 questo qua 125 euro il totale la spesa e queste sono le cose che io ho comprato adesso l'impacchetto e vado a preparare le decorazioni alla fine lo facciamo qua a casa in cucina perché il tempo non è delle migliori sta iniziando a nuvolarsi per cui non ce lo facciamo andare nella casa nuova in giardino e alla fine diciamo che salta e devo farla per forza qua la festa ovviamente ci vediamo dopo per la decorazione ovviamente la cucina è piccola non è che posso fare decorazioni diciamo bombe per cui devo farlo fare così tanto poi lì faremo le foto e basta non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo torta a tre piani con i cupcake no e 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 queste le tengo per bellezza queste e questa è la la pallina sperando che dura anche perché tanto pasta di zucchero e niente e e e e e e